Già da circa dieci anni mi mancavano tre denti, quindi ero abituata a portare un apparecchietto mobile di quelli che si tolgono e si mettono e quindi avevo difficoltà a mangiare fuori perché insomma non era abbastanza comodo o anche dei cibi particolarmente duri non riuscivo a mangiarli e quindi ho deciso che all'età di insomma neanche 30 anni fosse meglio provare a fare qualcosa di più concreto. Ciao mi chiamo Valentina sono venuta qui alla clinica Spallanziani per eseguire vari interventi tra cui l'innesto di osso, l'impiantologia di tre denti e anche ho messo l'apparecchio. Cercavo una struttura un po' che potesse fare diciamo a caso mio, quindi avevo guardato un po' su internet vari tipi di dentisti, leggendo le recensioni abbastanza positive di altre persone che sono venute qua ho deciso di provare, quindi ho chiamato presso subito appuntamento e poi ho fissato la prima visita. Quello che più che altro mi ha fatto decidere è stato il fatto di provare a vedere una visione più grande di quello che era la mia particolarità perché avevo un po' di problemi abbastanza seri e quindi avevo già fatto altre visite e mi avevano detto più o meno le stesse cose invece qui alla clinica Spallanziani mi hanno fatto capire altri tipi di cose come era meglio affrontare l'intervento. Sono state sempre tutti molto gentili e disponibili perché comunque essendo un caso un po' un po' particolare sono stata seguita anche dal maxilofacele di Parma, vari tipi di dottoresse perché avendo fatto sia il reparto odontoiatrico che di chirurgia ormai mi conoscono quasi tutti qua, tutti molto gentili nonostante anche il numero di persone che lavorano in questa struttura che comunque è enorme rispetto magari allo studio dentistico in cui è abituata ad andare solitamente dove c'è solo un dentista e basta qua c'è una serie di dentista è un'equipe che ti segue a 360 gradi e quindi comunque ti senti abbastanza tra virgolette al sicuro comunque abbastanza seguita su quello che devi fare. Se vai a fare un intervento all'ospedale di solito non è che ti chiama il chirurgo per dirti come stai e come non stai. Qua invece anche quando ho fatto gli impianti anche il dottore mi ha richiamato per sapere come si andava bene e come stavo. Se avevo bisogno di qualcosa insomma l'attenzione che c'è stata il giorno dopo l'intervento di chiedermi come stavo. Poi anche un fattore non da sottovalutare penso che guardano tutti quando vanno a chiedere una visita al dentista il costo delle prestazioni. Quello è stata anche una scelta che mi ha portato a venire qua anche perché rispetto magari ad altri studi dentistici si può pagiare anche diverse assicurazioni che ti possono aiutare. Quindi nonostante comunque sia più conveniente rispetto magari alle altre cliniche e venire qua alla clinica Spallanziani questo non significa meno qualità assolutamente dal mio punto di vista lo posso dire avendo fatto comunque tante diverse cose rispetto a dei lavoretti diciamo un po più semplici fatto tante cose diverse tutte complesse e tutte che sono andate a buon fine.